ciao ciao a tutti belli e brutti battuta del major 87 numero 87 e gli amici del lussemburgo ci sono due carabinieri che fanno il loro solito giro di perlustrazione e vedono che c'è un contadino che da più di un'ora gira all'interno di un parco fermo la macchina e vanno da lui scusi l'è qui cosa sta facendo il contadino sto trovando 100 euro allora due carabinieri lo aiutano guarda di qua guarda di là su e giù passo mezz'ora e i carabinieri dicono al contadino ma esattamente dove le ha perse ci ricorda il punto esatto il contadino forse non ci siamo capiti io non le ho perse le sto cercando ciao